Oh, ma guarda che bel cagnolino! Ecco qui un bell'osso tutto per te! Vorresti un bell'osso, tesorino? Beh, io non te lo do! E ora fila via prima che perda la pazienza! Ragazzi, che tipa strana! Qualcuno dovrebbe insegnarle le buone maniere! Oh, mamma mia! Non farmi del male, bestia orrenda! Ecco, tieni quest'osso! Mi piace un sacco!